Signor Colucci, venga di là che le devo parlare, venga di là che le devo parlare, qua non si Signor Colucci, io ho notato che lei si presenta a lavorare un giorno su quattro, non lo so che mi sta combinando, un giorno non viene, l'altro non si presenta, l'altro non si fa vedere e poi finalmente abbiamo l'onore di vederla qua lavorare? Poi di nuovo ricomincia, un giorno non viene, l'altro non si fa vedere, l'altro non viene di nuovo e poi si presenta di nuovo, non so, è possibile signor Colucci che lei debba lavorare un giorno ogni quattro? Vabbè diretti che significa, io dopo tre giorni a casa mi annoio, da qualche altra parte devo andare